Buongiorno, sono Aaron Buttarelli, sono direttore editoriale di Montador Education e vi do il benvenuto. Oggi ho un compito particolarmente piacevole, quello di introdurre il ciclo di webinar che prevede una serie di tappe, oggi è la prima, altre ne seguiranno, poi vi offrirò qualche informazione aggiuntiva, di introdurre il relatore di oggi, un autore a cui teniamo molto, quindi il piacere particolarmente grande da parte mia, per dargli alcune informazioni di servizio che possano poi essere utili nello svolgimento della giornata di lavoro. Allora, dicevo, quello di oggi è l'inizio di un ciclo di lezioni dedicati alla didattica digitale, l'incontro di oggi che avrà un carattere più introduttivo, generale, tenuto però da un insegnante, quindi da un collega. A questo incontro di oggi ne seguiranno altri tre tenuti dal professor Piero Gallo, che forse già avete avuto modo di conoscere nei mesi passati, dedicati a diversi aspetti, però come dire dalla didattica digitale, della didattica digitale integrata o dalla didattica a distanza seconda di quali siano i punti di vista. Quindi, insomma, la lezione di oggi va pensata come il primo di un appuntamento, ma come dire, a questo ne seguiranno poi altri. Allora, a questo punto vengo direttamente a presentare l'autore, che fino adesso abbiamo tenuto nascosto, parlo di Shiltian Gastaldi. Allora, buongiorno Shiltian, ecco ti qua, sei comparso, ti ho tenuto nascosto finché ho potuto, poi insomma era impellente presentarti. Shiltian Gastaldi, scusami, ne approfitto, non ti schernire, ti dirò cose poche, semplici, ma quelle che servono sono utili soprattutto per le persone che ci seguono. Intanto è un professore, un insegnante, insegna storia e filosofia in un ucceo romano, non diciamo quale, ma non è importante, insomma, quindi ha un'esperienza di insegnante sul campo, questo è il primo requisito fondamentale, ma è soprattutto poi anche uno studioso, un saggista, un giornalista, un comunicatore, insomma, una persona che riflette sui problemi del mondo della scuola. Peraltro Shiltian è anche un blogger, giusto? Il suo blog è un blog molto bello, Annelli di Fumo, tra l'altro, come dire, è il modo e dello strumento con il quale ci siamo conosciuti, quindi insomma, io l'ho conosciuto leggendo appunto le sue comunicazioni del blog Canello di Fumo che è ospitato nel 2016 dal settimanale d'Espresso ed è un sito a cui rimando perché è sempre un sito, un blog molto aggiornato e interessante, attraverso cui, come dire, si possono conoscere tanti aspetti, anche teorici, molto molto importanti. L'altra qualità di Shiltian è che, come dire, ha un percorso di formazione che si è svolto a cavallo tra l'Italia e il Canada, quindi c'è anche un'esperienza molto importante canadese di cui magari vi dirà qualcosa a lui e durante questo periodo canadese, se ho ben inteso, Shiltian, come dire, si è specializzato appunto anche in questo, come dire, ambito di insegnamento che è il blended ed online teaching, quindi parliamo di un esperto anche della materia, quindi parliamo di insegnamento blended o misto o ibrido, poi sarà lui a dirimere questa questione e quindi, insomma, ci sembra di poter dire che il miglior inizio non potevamo avere, insomma, direi che abbiamo una persona che è sul campo, ma come dire che ha competenze solide e quindi ci parlerà, insomma, di quali sono i temi legati alla didattica distanza, quel che si può fare e quello che non si dovrebbe fare. Per cui, insomma, Shiltian, ti lascio la parola, prima di lasciarti la parola, scusa, mi dimenticavo, alcune comunicazioni rapidissime di servizio per le persone che ci stanno seguendo, perché sono importanti. Allora, in primo luogo, non vi affannate a prendere appunti, seguite quello che dice appunto il relatore, perché poi le slide dell'intervento saranno disponibili sul sito della casa editrice, quindi www.munodoreducation.it. Avrete la possibilità di fare domande, usando lo spazio della chat a vostra disposizione, le domande le trarremo alla fine dell'intervento, in modo tale, come dire, che Shiltia possa, come dire, parlare senza essere interrotto. Sarà comunque, non lo annuncio, una presentazione molto interattiva, qui dovrete fare ginnastica, e quindi vi trarremo svegli, quindi dovrete fare piegamenti e flessioni durante, no scherzo ovviamente, durante la presentazione, insomma, quindi vi motiveremo e vi ingaggeremo, ecco, vi ingaggeremo, non mi veniva il tema. Troverete il modo di interrompermi. Esatto, l'ultima cosa, non meno importante, c'è poi a disposizione, per chi partecipa, per chi si è registrato, un attestato di partecipazione, scaricabile sempre dal sito, però, insomma, tutte le persone che ci sono registrate, riceveranno poi una mail, quindi l'attestato però sarà già disponibile a partire dalla giornata di domani. Ecco, io a questo punto posso, ho terminato, e quindi saluto Shiltan. Bene, buongiorno a tutti. Allora, se tutto va bene, adesso dovreste vedere la slide iniziale della nostra presentazione, che appunto si chiamerà didattica a distanza, quel che si può fare e quel che non si dovrebbe fare. Giusto per rompere il ghiaccio, siccome immagino che parecchi di voi se lo stiano chiedendo, come mai mi chiamo Shiltan? Mi chiamo Shiltan nonostante che io sia italiano, di Roma, perché ho semplicemente una mamma matta, la quale non ha mai gradito i nomi comuni italiani, per cui il suo nome comune, Maria, lo ha cambiato in Mara e sui figli si è vendicata molto. Quindi io mi chiamo Shiltan, che era anche il cognome di un pittore armeno che venne a Roma più o meno a fare una esibizione, una mostra, quando io stavo per nascere. Quindi questo è il motivo del mio strano nome. Allora, vediamo un po' cosa faremo oggi. Oggi parleremo soprattutto della differenza fra didattica mista e didattica ibrida, che possono sembrare due sinonimi, in realtà non sono. Vedremo in effetti che la didattica mista, seguendo certi accorgimenti, è praticamente sempre possibile farla, mentre la didattica ibrida presuppone tutta una serie di tecnologie in più addizionali, che non è affatto comune avere a disposizione in un liceo di scuola pubblica, ma aggiungo anche in una scuola internazionale molto ricca. Quindi voglio dire che la didattica ibrida sarà più complessa. Per questo ho scritto del perché non si possono fare le nozze con i fichi secchi. Poi vedremo in dieci slide molto brevi cosa non si deve fare in una lezione a distanza. Dieci comportamenti da evitare. Quindi parleremo delle strategie didattiche blended, ovvero miste, quella sincrona e quella asincrona. E vedremo in particolare un caso che probabilmente non vi aspettate, l'edutainment, che praticamente vuol dire usare i videogiochi come arma didattica. Poi parleremo brevemente, e spero in modo non retorico, di come cambia il ruolo dell'insegnante durante una catastrofe. Infine, molto brevemente anche su questo, perché i punti sono tanti, la valutazione a distanza, alcune possibili strategie. So che la valutazione a distanza è una delle cose che ci interessa di più e che sicuramente ci preoccupa di più. Allora, cominciamo in maniera rilassata, con questa slide qua, che ci dice del livello di comfort delle professoresse, delle docenti. Io uso il plurale femminile per i gruppi che hanno una grande maggioranza di donne, perché non capisco il motivo per cui dovrei usare quello maschile, con la tecnologia. Noi tutti, quando siamo portati davanti a qualche cosa di nuovo, abbiamo anzitutto una sensazione di disagio. E infatti agli inizi, come dice la slide, se dobbiamo imparare qualcosa a livello tecnologico, siamo al massimo a un livello di sopravvivenza. Non sono sicura di saperle usare, queste tecnologie, mi piacerebbe utilizzarle nelle mie lezioni, ma non so come. Qualcuno mi ha parlato di Google Suite, qualcuno mi ha parlato di WeSchool, queste cose qua. Però è un dramma quando poi devi veramente imparare. Dopo qualche mese, cresce la confidenza, ovviamente noi studiamo, ci applichiamo, parliamo con altre persone che sono nelle nostre stesse acque e quindi dopo un po', dopo qualche mese, io direi almeno 3-4 mesi come minimo, cresce la nostra capacità, la nostra confidenza e quindi la conoscenza arriva a un livello da mi sono impratichita, ho seguito un corso, l'ho usato nelle mie lezioni con un certo successo, ma penso di poterle migliorare. Diversi mesi dopo siamo a livello di padronanza, questo può capitare anche dopo 8 mesi, dopo un anno, a seconda della persona. Gli studenti e io sappiamo come sfruttare la tecnologia al meglio, le applicazioni che preferisco sono parte delle mie lezioni. Dopo almeno un anno, e ovviamente ci sarà chi raggiunge questo livello dopo 6 mesi, chi ci metterà 2 o 3 anni, ognuno impara con i suoi ritmi e non c'è niente di male ad essere più rapidi o più lenti, la competenza è veramente cresciuta e quindi c'è un saper innovare. Sono diventata brava e posso aiutare le colleghe che siano interessate, le tecnologie sono parte delle mie lezioni quando e come voglio. Ora, siccome abbiamo capito da questa slide che la nostra capacità, la nostra competenza con le tecnologie non è statica, ma può migliorare, ecco perché io vi ho preparato questa volta una presentazione un pochino interattiva, cioè fino adesso questa presentazione si sta svolgendo in modo passivo. Io parlo, voi mi guardate e praticamente voi non fate altro che ascoltarmi. Invece, lo capite da soli, questa modalità non può funzionare, in particolare con gli studenti di liceo, perché l'attenzione media di un adolescente all'interno di una didattica a distanza, di una lezione a distanza è di 7 minuti. Quindi qua ne sono già passati una decina e se io continuassi per gli altri 50 minuti in modo non interattivo, perderei molti di voi, perderei molti dei miei, diciamo, studenti di questa lezione. Quindi questa qua è una presentazione un pochino interattiva, nel senso che io vi chiederò di interagire con me in vari modi, usando la tastiera e il mouse. Ovviamente vi sentirete a tratti spersi, perché forse è la prima presentazione interattiva che fate, è del tutto normale, è normalissimo che la maggioranza di voi non voglia partecipare interattivamente o non possa farlo, perché non lo sa fare, non c'è problema, potete continuare a seguire in maniera passiva la nostra videolezione. Stiamo comunque facendo una cosa nuova, quindi il concetto è niente panico, tra l'altro io sto lavorando su una piattaforma che conosco da pochissimi giorni, per cui sicuramente qualcosa andrà male anche a me, quindi vi divertirete a vedere come sbaglia l'esperto, insomma. Allora, la prima cosa interattiva che vogliamo fare è questa, dovreste cliccare su questo link che vi sto dando, quindi se non sbaglio adesso ve lo metterà a disposizione anche la regia del nostro incontro e andrete a vedere un sito che si chiama appunto AnswerGarden, che è uno di queste applicazioni che ci consentono di fare maggiore interazione, dove per l'appunto c'è una parola, una definizione. Dice descrivi la didattica digitale con una sola parola o due. Ora, adesso, per favore, andando su questo sito AnswerGarden, come vi ho detto poco fa, potete cominciare a scrivere una parola o al massimo due, ovviamente in lingua italiana, e poi premere submit qui sulla destra e piano piano vedremo crearsi una nuvola di parole. Adesso c'è soltanto scritto molto impegnativa, perché quello che avevo scritto io poco fa è della mia definizione di didattica digitale. Vediamo un po' se riuscite a cominciare a scrivere la vostra definizione di didattica a distanza. Aspettiamo qualche secondo. Ecco, vedete che si incomincia a creare una nuvola. Ci sono già diverse persone che hanno scritto molto impegnativa, però ce ne sono diverse altre che hanno scritto creativa, interattiva, stimolante, bellissima, comoda. Vedete come si crea sempre di più questa nuvola di parole? E questo è un fenomeno bello, nel senso che ci consente di interagire con, in questo caso siamo duemila persone, se io continuassi a fare refresh avremmo sempre più definizioni. Sicuramente ci potrebbero essere anche delle parolacce, delle parole che non vogliamo leggere. Ci sono i modi per fare dei filtri, in caso, adesso io non sto a spiegarvi come funziona Ansel Garden nel dettaglio, ma considerate che tutte queste applicazioni che vi faccio vedere a volo d'uccello, a livello molto generale, hanno tutta una serie di approfondimenti che vi consentono di adoperare questi stessi strumenti nella maniera migliore. Però ecco, a che serve fare una nuvola di parole? Mi starete chiedendo, immagino. Serve ad avere un po' il polso della situazione. Dagli aggettivi che avete adoperato qua, io ad esempio mi sono già fatto un'idea sul fatto che la maggioranza di voi ha un atteggiamento positivo nei confronti della didattica digitale. È chiaro che se ci fosse stato scritto una noia mortale, la fine della scuola, la morte nera, eccetera, eccetera, probabilmente non vi sareste neanche collegati. Quindi diciamo che è chiaro che non è un campione rappresentativo di tutti noi docenti italiani, però è un bel campione rappresentativo di noi che stiamo qua adesso. Come vedete, la nuvola si è ulteriormente arricchita e potete anche, cliccando sopra, potete vedere quante persone hanno risposto che cosa. Quindi per dire molto impegnativa l'hanno detto 19 persone, 19 hanno detto innovativa, creativa 14, stimolante 34, che a quanto pare è la parola che vince in questo caso. Bene, a questo punto torniamo sulla presentazione che stavamo facendo. Quindi, come avete visto, era una cosa che siamo riusciti a fare e che ci ha consentito di non lasciarvi addormentare davanti alla mia immagine che parla e alle mie parole. Naturalmente, in una didattica a distanza fatta con 20 studenti, non dovete fare quello che sto facendo io con 2000 persone. Non dovete parlare sempre voi, perché se no gli studenti muoiono dall'altra parte, dovete per forza, avendo anche le immagini dei loro volti, che io naturalmente non ho qua adesso, perché immaginatevi se avessi 2000 facce davanti, dovete naturalmente interagire chiamando per nome, questo va da senso. Nella prossima slide vediamo per l'appunto questa differenza fra la didattica ibrida e la didattica mista. Come avete notato forse già dal slide che ho preparato, noi siamo tutti quanti a nostro agio con la didattica in classe, perché è quella che abbiamo sempre fatto, è la didattica più vecchia del mondo. La didattica a distanza noi italiani l'abbiamo conosciuta in particolare a partire dal 5 marzo del 2020. In realtà ci sono molti paesi occidentali, come per esempio il Canada, dove la didattica a distanza si svolgeva già tranquillamente da 20-30 anni, perché il Canada è un paese molto grande, con degli inverni molto rigidi, una densità della popolazione molto bassa e quindi non sempre era possibile per un insegnante raggiungere una scuola e far lezione dal vivo a tutti i suoi studenti. Avrete visto le migliori pubblicità che parlano del fatto che magari un'automobile nella neve non può andare e quindi il ragazzo rimane a casa. Allora in Canada già 30 anni fa si collegavano su internet, internet ovviamente esisteva già, e facevano lezioni a distanza. Ora, quello che io sostengo è che molto difficilmente noi torneremo a meno di catastrofi enormi, come appunto una pandemia con lockdown completo e totale, molto difficilmente noi torneremo a fare la didattica a distanza pure e semplice al 100%, che comunque si può fare e l'abbiamo improvvisata l'anno scorso e la possiamo affinare nei prossimi anni. Io invece ritengo che noi faremo didattica mista. La didattica mista non è quella che stiamo facendo adesso in classe, cioè la didattica che ci chiede di fare il ministero è la didattica ibrida. Come voi sapete abbiamo una classe di 30 ragazzi, 15 sono presenti dal vivo e 15 sono collegati da remoto, da casa loro, tramite il computer. Ecco, la didattica ibrida ha di differente rispetto a quella mista il fatto che si svolge in contemporanea sia dal vivo che da remoto. E voi mi insegnate che l'insegnante è uno solo. O fa attenzione a quello che accade ai ragazzi che sono collegati a distanza, quindi sul computer, interagendo, avendo tutta la cura possibile della tecnologia, oppure fa attenzione a quello che succede ai ragazzi in aula. Io per fare una battuta dico sempre, se io devo controllare i 15 ragazzi che ho collegati da remoto, mi concentro così tanto sul computer, che le prime tre file che sono davanti a me in aula potrebbero cominciare a tirare coca, io non me ne renderei conto, insomma. Per cui è chiaro che questa cosa non si può fare, a meno che non abbiamo una serie di strumenti che sono, anzitutto, dei radiomicrofoni. Il radiomicrofono deve essere collegato alla bocca del professore che deve potersi spostare dal computer alla lavagna per poter fare la sua lezione e la sua voce deve rimanere udibile dagli studenti che sono a casa. Oggi come oggi, chi di voi sta facendo lezione ibrida e non ha un radiomicrofono, sappia che quelli a casa, quando il professore si allontana dal computer, che è il nostro microfono, i ragazzi a casa non sentono più o sentono molto meno. Quindi serve intanto un radiomicrofono per il professore. Poi serve un microfono a giraffa, radio, per far parlare gli studenti dal vivo, in modo che possano dire delle cose, fare delle domande, fare degli interventi e che siano sentiti dei ragazzi a casa. Terza cosa, serve un cameraman, cioè qualcuno che riprenda il professore che spiega e faccia vedere le sue lavagne quando spiega la lavagna. Voi capite che stiamo descrivendo non più un'aula di scuola nella didattica ibrida, ma praticamente uno studio televisivo. Quindi non sto dicendo che la didattica ibrida che il Ministero dell'Istruzione ci fa fare non si possa fare in assoluto. Si può fare da alcune condizioni che non sono oggi come oggi, secondo me realistiche. La didattica invece mista è quella che si svolge un giorno sono tutti a distanza, un altro giorno sono tutti in classe. Allora in questo senso è possibile, un corso misto consiste in genere parte dal vivo, termina dal vivo e ha un lungo ciclo di lezioni che possono essere a distanza. È una delle tante modalità. Nel mio libro io parlo di questi corsi misti e identifico alcune varie possibilità, però in generale la didattica mista quando è fatta al 100%, quindi non in contemporanea voglio dire, o dal vivo oppure a distanza, quella si può fare bene, si può fare benissimo dal vivo, siamo tutti molto capaci, chi più chi meno, e si può fare molto bene anche a distanza. Passiamo quindi oltre. Qui appunto in queste prossime slide con il semaforo vedrete che in buona sostanza ripeto quello che vi ho appena detto. Quindi la didattica dal vivo, se sai cosa insegnare e come farlo, a meno di catastrofi in corso, pandemie, guerre, terremoti, si può fare sempre, anche se manca l'energia elettrica o anche una lavagna di qualunque tipo, perché un professore può insegnare anche senza energia elettrica e senza lavagna, deve essere ovviamente in grado di coinvolgere, di motivare e di sapere stimolare la curiosità. Come dicevo poco fa, la didattica mista, se sai insegnare come farlo anche, serve comunque l'energia elettrica, perché ci vuole una connessione internet, ci vuole un computer in collegamento, possibilmente con videocamera, possibilmente con audio funzionante, quindi si può fare questa, in particolare durante alcune catastrofi, come per esempio una pandemia, e purtroppo lo sappiamo bene tutti quanti. Quindi per quanto io sia un totale amante della didattica in aula, dal vivo, perché è ovviamente la dimensione naturale del fare scuola, dobbiamo ricordarci che senza la didattica mista, senza la didattica a distanza per meglio dire, noi l'anno scorso saremmo stati costretti a bocciare 8 milioni e mezzo di studenti, oppure a promuoverli senza voti, quindi più probabile a bocciare, come si fece durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. La didattica ibrida io metto la luce rossa del semaforo, perché come vi dicevo poco fa, se si può fare solo ad alcune determinate condizioni che non sono oggi, come oggi, realistiche. Una mia cara amica e collega, che si chiama Tania Convertini, nel luglio del 2020 ha pubblicato su Didactics, una rivista accademica che parla di didattica, la sua invenzione, il suo modello che si chiama d'apprendimento high flex circolare. Sembra una cosa molto complicata e in parte lo è. In buona sostanza lei dice, se noi dobbiamo rapportarci a quella didattica ibrida dove abbiamo 15 studenti in aula e 15 studenti in collegamento da remoto, un modo per poter comunque essere efficaci è quello di stabilire che gli studenti da remoto gli viene sempre assegnato loro una attività asincrona da fare per conto loro. Ad esempio scrive Tania Convertini di curare un blog di classe su un argomento della materia, può essere fisica, matematica, storia, filosofia, latino, quello che è. E in questa maniera Tania si cura di fare interagire attraverso il blog e poi attraverso la videocamera gli studenti che stanno a distanza con gli studenti che sono in aula. Io adesso non andrò a spiegare il dettaglio di questo schema che è abbastanza complesso, però ve lo segnalo perché lei spiega nel dettaglio come si può fare a organizzare in un'attività circolare questo tipo di interazione fra i due gruppi di studenti, quello che sta dentro l'aula di calcio e mattoni e quello che sta da remoto. La cosa fondamentale per Tania è che i due gruppi di ragazzi non siano tenuti divisi, ma anzi interagiscano fra loro nelle modalità in cui è possibile. Per esempio scrivendo un blog, dovendo metterci dentro anche un video, dovendo commentare il video di questo blog e il voto lo si può dare sulla base di quello che si è fatto, magari avendo cura di stabilire prima una rubrica in maniera che gli studenti sappiano esattamente quali sono gli elementi che li fanno arrivare a un voto più alto rispetto a un voto più basso. Bene, in quest'altra slide vediamo un altro grafico a forma di piramide. Bevo un attimo. È la piramide della ritenzione e spiega un po' il motivo del mio metodo, perché io di fatti da alcuni anni insegno in Italia, ho insegnato in totale una quindicina d'anni, dieci in Canada e il resto in Italia, io faccio usare delle PowerPoint o delle Google Slide, insomma delle diapositive, un programma di diapositive qualunque. Per quale motivo lo faccio? Perché ci sono studi molto seri che hanno dimostrato che se uno studente ascolta semplicemente una persona che parla, magari seduta dietro una cattedra, senza nient'altro, dopo 24 ore quello studente si ricorda il 5%, adesso vi metto anche il puntatore, eccolo qua. Vedete, il 5% di quello che è stato detto in classe viene ricordato in media da una persona che ha seguito una lezione, diciamo così, vecchio modello. Il professore che parla e basta in tono monocorde senza fare nient'altro. Già se si chiede a quella persona di leggere si salta al 10%, se si usa un audiovisivo come per esempio un PowerPoint, si balza al 20%, ecco perché io faccio usare i miei studenti, faccio produrre ai miei studenti un PowerPoint e poi diciamo che saltando al fondo il 90% lo raggiungiamo quando? Quando facciamo sì che siano gli studenti a insegnare ai loro pari la lezione del giorno che loro hanno preparato a mo' di la mia interrogazione, usando magari un PowerPoint e avendo cura di coinvolgere lo studente interrogato, coinvolge gli studenti che sono in classe, lo possono fare anche in maniera diciamo un po' clandestina, mettendosi d'accordo prima, Marco io ti faccio una domanda su questa cosa e tu rispondi in questa maniera. E l'insegnante osserva, può essere addirittura seduto nella platea degli studenti, covid permettendo, e deve osservare la dinamica di classe, un po' come quando stavamo, non lo so, a fare l'anno di tirocinio dovevamo notare la dinamica di classe, no? Per cui lo studente che viene interrogato, uso questa parola che in realtà è un po' impecisa perché lui sta facendo una presentazione, deve parlare alla classe e non solo al docente, deve avere dietro di sé una presentazione fatta con certi crismi che il docente ha scelto quali crismi, gliel'ha comunicato, gliel'ha fatti sapere a tutti, diciamo cinque slide per esempio, no? E deve coinvolgere la classe facendo delle domande o usando anche un kahoot per esempio che è uno degli strumenti che vedremo molto brevemente alla fine di questa presentazione che consente di nuovo di fare una interazione anche con studenti a distanza. Voi sapete che i nostri studenti hanno tra le mani un computer più potente di quello che fece a allunare l'uomo sulla luna nel 69, il loro smartphone, il loro telefonino. Ecco, tramite il telefonino e un kahoot il telefonino diventa una pulsantiera e si può partecipare a un quiz, a un sondaggio e ad altre cose di questo tipo. Per cui questa slide qua spiega il perché di questo metodo che io adopero da qualche anno devo dire con grande soddisfazione dei miei studenti perché mi dicono anche professore io in questa maniera sto imparando a parlare in pubblico e parlare in pubblico è un problema per tutti, nessuno nasce imparato. Parlare in pubblico significa praticamente che tu devi vincere una timidezza, una ritrosia e devi anche in qualche maniera avere un'organizzazione, un'impostazione del discorso. Inoltre mi dicono professore non sto imparando soltanto storia e filosofia sto imparando anche a usare PowerPoint e quindi il computer. Non pensate che i nostri studenti ne sappiano più di noi sui computer. I nostri studenti, la generazione di oggi, è una generazione che videogioca molto e comunica moltissimo sui computer, ma se deve spedire una mail che è già qualche cosa di vecchio per loro, non sa dove si scrive il subject. Quante volte avrete ricevuto una mail priva di subject, magari senza un ricco di scritta e con solo un allegato che va direttamente in spam? Questo perché ragazzi non è che sono maleducati, è che non sono educati all'uso dell'email. Ma noi sappiamo usare ormai una mail e dobbiamo insegnar loro sia a usare la mail che possibilmente a usare il computer in maniera un pochino più complessa, per esempio facendo una PowerPoint, che è una cosa molto semplice. Poi le PowerPoint possono essere complicate con varie aggiunte che forse dopo vedremo brevemente, ma andiamo avanti, se no facciamo troppo tardi. Passiamo alla seconda fase dell'interazione di questa nostra lezione. Sulla prima siete stati bravissimi perché avete scritto in tantissimi su Answer Garden. In questo caso invece io vi chiedo di andare su quest'altro sito. È un sondaggio. Cosa non si deve fare, secondo voi, durante una lezione a distanza. Quindi vi chiedo la cortesia di andare su www.menti.com e di inserire questo codice 5900842 e vediamo quello che succede. Allora, qui se tutto quanto va bene dovrò andare anche io a condividere lo schermo. Quindi, andatemi un attimo. Ecco, dovreste vedere questo sondaggio. Avete due possibilità. Potete scegliere due di queste dieci risposte e scegliete quelle che vi sembrano più giuste e vediamo se riusciamo a ottenere delle risposte. Vedo che già qualcuno ha votato. Ecco, vedete che stanno votando, che si stanno alzando le varie possibilità. Rimaniamo qualche decina di secondi su questo sondaggio per vedere come va. Per adesso vince leggere per tutto il tempo. Sì, in effetti sono d'accordo con i 25 colleghi che stanno dicendo questa cosa. Il comportamento più mortale possibile durante una lezione a distanza. Immaginate se io fossi venuto in questa lezione e mi fossi messo qui con il mio bel testo scritto. Magari avrei avuto neanche l'accortezza di mettermi ben visibile nella camera, ma la camera sarebbe potuta stare in una posizione più o meno come questa, illuminando la mia pelata e non la mia faccia. E se mi fossi messo a leggere con un tono monocorde per 60 minuti, io credo che ci sarebbero stati dei casi di suicidio, probabilmente dall'altra parte della lezione. E quindi, come vedete, qui abbiamo adesso già diverse centinaia di persone che hanno votato. Al secondo posto abbiamo non curarsi di coinvolgere gli studenti. Non potrei essere più d'accordo. Del resto sono d'accordo con tutte e dieci le possibilità, perché le ho scelte io, però in ogni caso, 280 persone dicono non curarsi di coinvolgere gli studenti, è fondamentale. Questo vale sia in classe che a maggior ragione a distanza. Noi abbiamo proprio un dovere di coinvolgere gli studenti. Non è che gli studenti vengono a scuola perché devono, in qualche maniera, raccogliere le nostre parole. Siamo noi che dobbiamo ingegnarci a trovare il modo di comunicare. Se gli vogliamo davvero istruire, dobbiamo trovare la chiave di comunicazione che funziona con loro. Vediamo un po' al terzo punto chi ci sta per adesso, con 260 voti, limitarsi ad assegnare i compiti per il mail. Ah, questo è veramente un classico, no? Quante volte avete sentito qualche collega che dice di avere fatto didattica a distanza perché, avendo imparato a spedire una mail, si è limitato a dire, studiate la pagina 20 a 25. No, quella non è didattica a distanza. Quello è fare i furbi. E noi italiani possiamo essere molto bravi in questo. Bene, direi che le prime tre sono ormai sicuramente queste qua, non c'è più possibilità per nessun altro di entrare, quindi possiamo passare a un'altra slide. Quindi devo tornare sulla piattaforma e ripassare al nuovo, alla nostra presentazione di prima. Eccoci qua. Benissimo, grazie per aver contribuito a questa lezione in questa maniera. Poi alla fine farò una foto dei risultati del sondaggio e anche di Answer Garden e la metterò a disposizione della Mondadori che sicuramente troverà il modo di renderla disponibile qualora vi interessasse. Adesso vediamo brevemente, abbiamo ancora circa 26 minuti, dieci problemi, dieci situazioni veramente brutte, no? Dieci cose da non fare in una lezione a distanza. Il decimo, lo facciamo a salire fino al primo, no? Il decimo sono i problemi di ambiente e di cornice. Sono molto banali. Non guardare in camera. Io ho provato fino adesso a guardare in camera e spero di averlo fatto il più delle volte. Non curarsi dello sfondo. Pensate che è divertente se dietro di me ci fosse stata mia moglie o qualche ragazzino, magari nudi, che passavano correndo e scherzando. Chiaramente queste cose distraggono. E se noi siamo docenti, dobbiamo sapere che dobbiamo stare in un ambiente propenso, in un ambiente atto, diciamo, a fare una lezione a distanza. Oppure fare lezioni da un ambiente rumoroso. Se il vicino di casa sta con il martello pneumatico, sarà difficile che io potrò fare lezioni a distanza dalla stanza di fiacco, diciamo, no? Presentarsi con un abbegnamento non professionale. Ma, colleghi, questo vale per noi, ma vale soprattutto per gli studenti, naturalmente. Io ho avuto l'anno scorso un ragazzino di 16 anni che addirittura, non avendo fatto mente locale, stava per andare in bagno col computer e io l'ho fermato per tempo e ho interrotto la sua trasmissione video. Ma, ovviamente, possono essere problemi seri perché questi sono minorenni, tra l'altro. E finché sono collegati solo con noi è un conto. Quando dovessero essere collegati con altre persone diventa ancora più grave. Quindi, l'abbigliamento deve essere professionale. Io non sono venuto qui vestito in maglietta o strappata, magari, no? Non essere bene inquadrati dalla webcam. Questo è un classico. Andiamo velocemente sugli altri. Un altro comportamento da evitare è di non utilizzare una videoclip nella vostra presentazione. Le videoclip di un minuto o due minuti al massimo servono a spezzare il ritmo, servono a spezzare la monotonia anche della parola. Quindi, la generazione di oggi a cui noi insegniamo è una generazione che ragiona per immagine, quasi iconografica, immagini in movimento, soprattutto. Quindi, un video, secondo me, non sbagliate mai quando lo metterete. Ottavo punto, non utilizzare proprio una presentazione. Cioè, se io qui fossi venuto a far vedere la mia bella faccia soltanto senza questa presentazione che sto facendo scorrere, bene, calcolate che se voi leggete davanti a una telecamera per più di 30 secondi un testo non riprodotto su un supporto video, chi vi ascolta non vi segue più. E non si può neanche pensare di fare un monologo a camera fissa, più lungo di 10 minuti, perché pure questo, cioè, state mirando a far addormentare le persone a quel punto. Al settimo punto, parlare ininterrottamente per più di 30 minuti. Come vedete, io che parlo da poco più di 30 minuti, ho cercato di farvi fare delle cose, e ci siamo anche riusciti insieme, proprio per cercare di spostare il focus da me a voi, di farvi stare dentro la lezione. E in generale, nessuna video-lezione dovrebbe durare più di 45 minuti, ma badate, in quei 45 minuti ci devono essere l'appello, che secondo me deve essere fatto in maniera anche un po' frizzante, l'appello, in particolare se siamo in una pandemia e i nostri adolescenti sono spaventati. Dovete cercare di essere, non voglio dire degli intrattenitori, ma dovete essere degli adulti, punti di riferimento, che però aumentano il grado di empatia in una situazione di emergenza. E quindi, appello, interazione, coinvolgimento, sintesi, domande a ciascuno studente, allora 45 minuti sì, se no, se preferite concentrarvi più sull'aspetto teorico della lezione, non più di 30 minuti. Al numero 6, proporre diapositive prive di grafici o immagini o parlanti. Immaginatevi uno slideumento, cioè una slide, una diapositiva, tutta scritta, fitta, 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 fitta. Quella non serve a niente, perché nessuno potrà leggerla. Le presentazioni PowerPoint non sono fatte per essere tutte scritte o anche tanto scritte. Sono fatte per avere delle grandi immagini che richiamano un treno di pensieri nell'autore che ha fatto la presentazione. E meno è meglio in una presentazione PowerPoint. Una grande immagine parlante, anche senza scritte, funziona, ed è dimostrato a livello neurologico e psicologico, non è che lo dico io, funziona molto di più di qualunque testo scritto. Voi vedete come perfino queste mie slide, che sono abbastanza scritte, hanno un grande numero 6, ad esempio, o che cambia in rosso da una parte, e vi dà l'idea di una serie. E voi vi ricorderete soprattutto che ci sono 10 comportamenti da non dovere fare durante una lezione a distanza, poi magari di questi comportamenti ve ne ricorderete qualcuno, non tutti. Al quinto posto, non coinvolgere gli studenti. Cioè, se in una presentazione noi non inseriamo nessuna attività, nessun quiz, nessuna nuvola di parole, abbiamo fatto Hansel Garden insieme, nessun sondaggio, abbiamo fatto i 10 errori da non fare durante una lezione a distanza, nessun dibattito, scritto o orale, usando anche la chat della nostra video-lezione, questo non va assolutamente bene perché i ragazzini non ce la fanno a seguirci. Se non chiediamo ai nostri studenti di parafrasare quello che noi abbiamo detto, di semplificarlo, di renderlo magari, di divulgarlo meglio, anche questo non va bene. Deve essere sempre un dialogo. E questo lo diceva Socrate, non è che lo dice Schilfian-Gastalli. Al numero 4, non curarsi di far interagire gli studenti. Quindi io ho assistito a delle presentazioni dove veramente veniva un professore a leggere un testo per 40 minuti, non guardava mai in camera e alla fine ci ha salutato e ci ha detto alla prossima lezione. Anche no. Cioè, alla prossima lezione io non ci vengo se tu fai una cosa del genere, no? Quindi se non usi la chat, non poni domande agli studenti, non ti fai fare domande, non stai facendo video-lezione. Sei salito su un podio e hai deciso che gli altri devono cogliere il tuo verbo sacro. Beh, non è questo fare scuola. Al terzo posto, leggere la lezione per tutto il tempo. È praticamente l'esempio che ho detto poco fa. Al secondo posto, io metterei quei problemi tecnici di cui non ci si rende nemmeno conto. Per esempio, se non si è acceso il proprio audio, allora facciamo la parte dei pesci nell'acquario. Se non si è accesa la videocamera e voi vedete uno schermo nero. Se non si sente l'audio degli studenti, mi è capitato questo di recente da studente, no? Un professore che non sapeva accendere l'audio del suo computer e non poteva sentire le domande che gli studenti ponevano e che però tutti gli altri studenti collegati potevano sentire. Oppure, se non si vedono gli studenti, è sempre importante chiedere allo studente di accendere la videocamera perché dovete controllare anche che stia bene. Se siamo in una pandemia e non lo potete vedere mai se non attraverso il computer, dovete vedere se si è pettinato, se si è fatto la barba, se si è fatto la doccia. Dovete capire come sta lo studente attraverso uno schermo che non è semplice, è molto più facile farlo in aula. Ultimo punto, non fare mai video lezioni e limitarsi a mandare i compiti per email. Questo è veramente la cosa peggiore. Io, a costo di ripetermi, se vi limitate a mandare una mail per dire studiare a pagina 30-35, non state facendo nessun tipo di didattica digitale. Tutto qui? In realtà no. In realtà no. Il 15 ottobre del 2020 abbiamo avuto sui giornali un episodio, diciamo, di cronaca praticamente nera di un professore che, inconsapevole, un professore universitario per fortuna, per fortuna perché noi altri siamo a scuola e vogliamo difendere la nostra categoria, collegato con centinaia, forse con migliaia di studenti in una di queste importanti lezioni dei primi anni dell'università, ha fatto un commentino sessista e salace che si è trasmesso a tutte le orecchie collegate. Era un commentino sessista su una studentessa e quindi, voglio dire, toccato il fondo si può ampiamente cominciare a scavare con la didattica a distanza. Dobbiamo stare molto attenti. Ora, nell'ultima parte mancano circa 15 minuti della nostra lezione, guarderemo quali sono le possibili attività sincrone e asincrone. Ora, questa tabella che prende questa slide qui e quest'altra qui le trovate dentro il mio libro e sono prese da un suggerimento dato dall'International Baccalaureate che è una organizzazione che si cura un po' come l'IGCSE per il Cambridge di organizzare un esame standardizzato che viene corretto poi a Ginevra anziché a Cambridge. L'International Baccalaureate è uno dei programmi degli esami standardizzati universali che si possono fare nelle scuole di tutto il mondo. Bene, e quindi loro suggeriscono in un documento che hanno le possibili attività sincrone e asincrone che vediamo nella nostra slide. Per esempio, scrivere su un blog e fare un video blog è una tipica attività asincrona. Che cos'è quindi un'attività asincrona? è quell'attività che non si svolge contemporaneamente fra docente e studente. Un'attività sincrona è invece per esempio la lezione in aula ma anche la video lezione è sincrona perché allo stesso momento in cui il docente si collega col computer o entra nell'aula della scuola lui fa lezione e contemporaneamente gli studenti sono collegati con il computer se è una lezione a distanza o sono ai loro banchi se è una lezione dal vivo. Quindi le attività che possiamo assegnare ai nostri studenti per convenzione le distinguiamo a seconda che si svolgano in contemporanea per il docente e per gli studenti oppure no. Andiamo quindi a vedere due al massimo tre di queste varie attività. Vedrete che in questa prima slide c'è scritto giochi, videogiochi, ludografiche ed edutainment. Su questo torneremo fra un pochino. i videogiochi di oggi cari colleghi sono molto diversi dai videogiochi che noi adoperavamo da bambini se siamo degli anni settanta. Sono videogiochi molto più curati che vengono studiati ad Harvard al Meet Game Lab come strumenti di didattica e io mi rendo conto che qui cerco di come dire spingervi un pochino a qualche cosa di nuovo. però vedremo poi un brevissimo video che vi spiega come si può effettivamente adoperare un videogioco del ventunesimo secolo in questo senso perché è importante riuscire a comunicare nei binari degli studenti e sicuramente il videogioco è un binario loro più che il nostro. Vediamo la seconda slide. Le presentazioni multimediali possono essere sia sincrone che asincrone i quiz e i sondaggi normalmente sono invece asincroni perché è raro vedere un professore che fa un sondaggio in diretta alla sua classe a cui sta facendo video lezione è più normale che il professore dica alla sua classe avete tempo fra fino a tre giorni fra tre giorni una settimana per rispondere a queste domande in questo sito o per fare questo sondaggio quindi diventa un'attività che gli studenti espletteranno nel momento in cui meglio riterranno bene quindi in quest'altra slide qui vediamo l'importanza di quello che dicevo poco fa riguardo al parlare in pubblico io mi curo anche se insegno storia e filosofia di insegnare ai miei studenti anche una serie di soft skills a me anche se l'inglese è ovviamente la mia seconda lingua non mi piace usare l'inglese con l'italiano sono le capacità relazionali e comportamentali fra queste c'è il parlare in pubblico ma non è non è l'unica ok ce ne sono diverse ed è importante cercare di formare un cittadino a tutto tondo perché queste capacità torneranno utili ai nostri studenti sia quelli che andranno all'università e dovranno alle volte parlare da un podio e presentare il loro paper o quello che sarà ma anche a quelli che interromperanno dopo la maturità o comunque dopo un certo ciclo di studi e vorranno andare a lavorare voglio dire se vi è capitato recentemente di andare a vedere in un'agenzia immobiliare per comprare un appartamento per fare un mutuo vedrete che gli agenti immobiliari del 2020 sono persone che molto spesso vi conducono virtualmente dentro un appartamento con una presentazione powerpoint oppure con un altro tipo di software e vi fanno vedere rimanendo dentro l'agenzia tutte le varie possibilità abitative che loro hanno e che secondo loro possono andare bene per voi quindi voglio dire è chiaro che parlare in pubblico avendo un audiovisivo è una capacità una skill diciamo così che possiamo tranquillamente insegnare sia allo studente che è desideroso di fare carriera accademica che a quello che vuole andare a lavorare subito dopo la fine della scuola l'altra cosa che si può fare bene in una lezione a distanza è invitare un esperto se io devo un esperto che possibilmente non sia un altro professore un altro insegnante un accademico se devo parlare non lo so professore di storia voglio fare una lezione sulla pandemia di spagnola del 1918 trovando i punti di contatto con la pandemia di oggi i punti di differenza bene chi mi vieta di fare un colpo di telefono a un mio amico un vostro amico medico di famiglia o infermiere e ciascuno di noi ne conoscerà uno e chiedere ti va di fare un intervento di 10 minuti all'interno della mia video lezione i ragazzi quando trovano che il professore è riuscito a coinvolgere un altro adulto il quale ovviamente parlerà con un altro linguaggio un altro gergo un altro piglio di una materia di cui però quella persona è veramente esperta i ragazzi rimangono irretiti rimangono assolutamente interessati a quello che viene detto perché capiscono che è una nuova competenza che viene proposta loro e gli spiega quello che magari il professore potrebbe spiegare però in maniera forse meno efficace o comunque meno approfondita quindi invitate un ospite esperto quello che gli inglesi chiamano un guest speaker con questi titoli altisonanti nelle vostre lezioni a distanza è chiaramente qualcosa che dovete fare anche in accordo con la vostra scuola e con la vostra preside però con il buon senso di tutti non è che inviterete una pornostar no? per cui inviterete qualcuno che è in grado di spiegare un elemento importante del programma vostro visto da un'altra chiave continuiamo vediamo subito questo qua vi parlavo poco fa dell'importanza dell'edutainment e vi dicevo che questo è un argomento che viene studiato alla Harvard University di Boston quindi c'è il Meet Game Lab che studia proprio in maniera molto approfondita come usare i videogiochi come strumento didattico ora come dicevo poco fa e come vedremo tra un attimo in questo video tratto da YouTube i videogiochi di oggi sono tridimensionali e sono dei giochi di ruolo d'azione di ambientazione alle volte storico-filosofica quindi è chiaro che ci sono materie che sono più affini all'uso dei videogiochi ma siccome i videogiochi sono di qualunque genere anche chi insegna fisica, matematica e chimica troverà sicuramente una serie di videogiochi che fanno il caso proprio ora io qui vi faccio vedere brevissimamente un minuto e mezzo circa di questo filmato estrapolato dal videogioco e cosa succede? Il videogioco si chiama Assassin's Creed Odyssey ed è quindi un videogioco di ruolo dove abbiamo un personaggio che si chiama Alexis che va nell'antica Grecia e incontra un personaggio storico realmente esistito Socrate e questo Socrate è stato dipinto dagli autori del videogioco un po' come fece Platone nei suoi dialoghi sulla base delle fonti storiche e quindi l'autore del videogioco ha cercato di mettere nel suo videogioco un Socrate il più possibile aderente alla realtà o per meglio dire aderente a quella che Platone ci ha detto essere la realtà che era Socrate poi come sapete non sapremo mai fino a quanto è un personaggio di Platone e fino a quanto è un vero Socrate e alla stessa maniera se volete anche nel videogioco però l'autore del videogioco ha fatto del suo meglio per essere il più fedele possibile quindi come facciamo a spiegare che cos'è il dialogo socratico per esempio in una lezione di filosofia di terza liceo a dei ragazzini di 15 anni che sono abituati a stare sempre sui videogiochi e videogiochi che tra l'altro ricordiamoci bene sono un fenomeno economico perché i ragazzi giocano fra di loro uno contro l'altro o in squadra in tutto il mondo e diventa addirittura un'attività economica perché sopra i 18 anni possono addirittura praticamente giocare soldi su queste cose e può diventare un'attività economica anche di un risvolto importante quindi vediamo quello che viene fatto all'interno di questo videogioco qui c'è il personaggio di Alexis che si ritrova all'interno della città e va cercando Socrate sono dimenticato in questo caso il filmato è in lingua inglese c'è anche in lingua italiana io l'ho messo in lingua inglese perché era il più breve che ho trovato nell'arco di poco tempo e vi faccio vedere ancora un minuto con i sottotitoli in modo da capire come interagisce il videogioco ogni tanto vedrete delle scritte al lato perché lì è dove il giocatore deve scegliere come rispondere al personaggio di Socrate che dice delle cose e in questo rispondere si verifica il famoso dialogo Schiltian scusami Schiltian scusami non si sentiva l'audio del videogioco non so se ah ok proviamo potrebbe essere che non ho messo la condivisione vediamo subito la condivisione dell'audio allora Chrome Tab questo share audio share e torniamo sul videogioco ok bene proviamo adesso ok si sente? si sente va bene ottimo can they be wise or are they simply words oh no you don't I'm not getting sucked into one of these debates again yet right now there's a situation I would love your opinion on fine soldiers captured the rep he stole from the sanctuary to help finance the rebellion when guards attempted to apprehend the man he killed one of them murder on Nilos they're probably going to kill him indeed though it's illegal to end his life here so he awaits his fate to be transported to Mykonos where do I come in? would you say this rebel deserves death that killing him brings justice? ecco vedete adesso qui in questa zona è comparsa la possibilità di scelta fra tre frasi che il giocatore che sta a casa deve scegliere con il joystick cosa far dire al personaggio di Alexis e a seconda di quello che lui dirà continuerà il dialogo con Socrate in una certa maniera e questo è un filmato di due minuti e trenta noi adesso non vedremo neanche tutti due minuti e trenta però capite che stiamo osservando come fossimo a teatro un Socrate il più realistico possibile che fa la sua maieutica il suo dialogo socratico con questo personaggio fittizio di Alexis e Alexis siamo noi il giocatore vi assicuro che un quindicenne a questo punto su Socrate si è davvero infugnato la sua maieutica di cui stiamo parlando ripeto che questo videogioco è disponibile in tutte le lingue quindi anche in lingua italiana e naturalmente il fatto che io ve l'abbia fatto vedere in inglese credo abbia stimolato un pochino gli insegnanti di lingua inglese alla possibilità di adoperare questi videogiochi anche semplicemente soltanto facendo vedere con i sottotitoli e anche facendo apprezzare questo inglese con un accento forte della Grecia antica probabilmente che è qualcosa di abbastanza ibrido ecco in questo caso sì. Procediamo con la nostra presentazione allora qui stiamo arrivando verso la fine cari colleghi abbiamo ancora circa tre minuti e all'interno del mio libro che è abbastanza corposo affronto tra gli altri questo tema ho scelto questo perché mi sembrava quello più diciamo così ragionevole come cambia il ruolo dell'insegnante durante una catastrofe perché ricordiamoci che noi siamo all'interno di una catastrofe una pandemia di un virus che si trasmette in forma aerobica e che ha un grado di mortalità non trascurabile e che colpisce in particolare le persone più grandi ma comunque colpisce un po' tutti è una catastrofe e non possiamo dircela in altra maniera non ci sono altre parole adatte e qui non voglio fare retorica il ruolo dell'insegnante in particolare di scuola pubblica cambia durante una catastrofe la scuola è una comunità educante ed è una comunità che rimane comunità anche durante un disastro quindi occorre aumentare l'empatia dobbiamo sicuramente essere in grado di come posso dire ascoltare meglio ascoltare di più essere più interessati nei confronti dei timori delle paure dei dubbi che i nostri studenti possono avere io lo scorso marzo aprile ho avuto diverse classi di ragazzi che erano spaventati e mi hanno riempito di domande alle quali io non sapevo dare risposta e questo fa parte del nostro ruolo noi non possiamo essere dei tuttologi non possiamo presumere di sapere tutto abbiamo appena visto Socrate no? Socrate ci diceva che l'unica cosa che so è di non sapere bene noi alla stessa maniera tutte le volte che non abbiamo la risposta dobbiamo essere in grado di dire non lo so ma so dove andare a cercare non posso sapere come sarà la maturità quest'anno perché non lo ha scelto ancora nemmeno la ministra Azzolina però nel tempo ci verrà detto e ci prepareremo quindi credo che sia molto importante per noi ricordarci che noi veramente rappresentiamo lo Stato nel nostro piccolissimo noi siamo un pezzetto dello Stato abbiamo un'immaginaria fascia tricolore addosso e come Stato italiano noi dobbiamo prenderci cura di quelli che sono gli studenti specialmente quando hanno paura dobbiamo assumere un atteggiamento realistico di cauto ottimismo sul futuro non dobbiamo raccontare favole non dobbiamo essere troppo accomodanti su tutto dire alla fine tutto andrà bene dobbiamo essere consapevoli del ruolo in cui siamo che è un ruolo molto più alto molto più profondo di quello in cui eravamo nei tempi normali quando ovviamente i nostri studenti erano meno spaventati e ci ponevano meno domande un'ultima cosa non cerchiamo di improvvisarci psicologi sul nostro piatto abbiamo già moltissimo così non c'è bisogno di aggiungere altro noi non siamo psicologi non siamo formati come psicologi non abbiamo studi da psicologo per cui non possiamo essere noi lo psicologo dei nostri studenti ma abbiamo il preciso dovere di saperli indirizzare dallo psicologo dal servizio preposto provvisto dalla scuola in modo virtuale se siamo durante una didattica a distanza ci sarà sicuramente uno sportello psicologico che funziona tramite distanza oppure se ci sta un psicologo a scuola se verrà rimesso di dire in quali orari dove andare e come bene siamo arrivati alla fine qui per cui posso interromperti alla slide precedente perché io avevo deciso per evitare per non trasmettere l'idea che questo intervento fosse legato a scopi commerciali in realtà ci tenevo a questo punto visto che ne hai parlato durante il intervento di dire appunto alle persone che sono collegate che Shiltan ha appena pubblicato per i tipi di Mondodoro Education un manuale che si intitola Lo so fare e immagino che il titolo a questo punto il senso di questo titolo sia comprensibile alla luce di quello che Shiltan ha detto guida l'apprendimento misto e l'insegnamento anche a distanza è un manuale ricchissimo un compendio di letteratura anche scientifica un'esperienza il racconto dell'esperienza trascorsa pieno di suggerimenti di idee quindi vi consiglio di consultarlo di trovarlo di acquistarlo se vorrete ovviamente ma credo che sia lo strumento al momento migliore per affrontare temi come quelli che stiamo affrontando scusa di Shiltan se ho fatto questo piccolo intervento avevo deciso appunto di tenerlo in fondo ma poi tu ne hai parlato quindi mi hai in qualche modo spoilerato quindi non potevo non dire questa cosa grazie è una nulla nulla è una guida scritta da un insegnante per insegnanti esatto spero spero che ci possano essere anche altre categorie che sono costrette a lavorare a distanza che possano trovare utile queste pagine finisco la mia presentazione presentandovi alcune possibilità di valutazione a distanza vi ricordate che un'ora fa vi ho detto che alla fine della nostra presentazione avremmo parlato brevemente di questo ora esistono delle applicazioni dei programmi dei software che ci consentono di fare valutazione a distanza sono tantissimi e nessuno si potrà mai dire esperto in questo campo e alcune di queste le abbiamo viste insieme abbiamo visto insieme Answer Garden quando abbiamo fatto la nuvola di parola abbiamo visto Mentimeter quando abbiamo fatto il sondaggio e avremmo potuto vedere anche Kahoot ma richiedeva una preparazione da parte vostra ulteriore perché avreste dovuto usare il vostro smartphone insieme al computer per usarlo come pulsantiera però sono tutti i programmi ad esempio non so World Wall è un sito prezioso che in particolare per chi insegna lingue o lavora con i bambini più piccoli fa lavorare moltissimo con le parole e di Answer Garden abbiamo già detto di Mentimeter pure Flipgrid è utile per creare griglie di discussione anche video mentre PeerDeck è per fare delle powerpoint più eleganti e NearPod all'interno tra l'altro della Google Suite è possibile da aggiungere come add-on per fare delle lezioni più interattive come quella che abbiamo provato a fare insieme e infine abbiamo Padlet che è per creare bacheche ed è prezioso in particolare per le attività asincrone quindi in generale questi sono un mucchietto di software che vi possono aiutare per fare valutazione a distanza ma termino dicendo questo la valutazione a distanza la si può fare anche semplicemente con la propria video lezione si può chiedere allo studente di condividere il suo schermo di proiettare la sua powerpoint che ha preparato a casa secondo i crismi che voi gli avete dato e avrete a quel punto la powerpoint e l'immagine del ragazzo che dovrà parlare a voi e al resto della classe e se voi date a quel ragazzo le direttive che avete dato anche quando eravate in classe cioè di coinvolgere gli altri sarà lui che all'interno della sua presentazione a un certo momento avrà il video di youtube avrà il caout e tutti quanti gli altri ragazzi vedrete che prenderanno il loro cellulare perché loro lo sanno che cos'è caout e lo sanno usare e quindi ci sarà un quiz un sondaggio qualche cosa che non li farà rimanere come degli stoccafissi passivi ad ascoltare dentro lo schermo ma li farà interagire alla fine la chiave di tutta questa presentazione è questo interazione coinvolgimento e evitare di vedere la video lezione come un momento per noi per leggere e non come un momento per i nostri studenti per essere coinvolti Aaron grazie 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 mille per questo bel intervento bella lezione credo che nessuno di noi si sia annoiato quindi sia stato bravo coinvolgente e soprattutto comprensibile insomma non ti sei perso in paroloni in realtà come dire in filigrana del tuo intervento insomma ho riconosciuto poi tutto lo spessore anche dei contenuti e della letteratura che poi citi nel tuo volume insomma che abbiamo prima richiamato insomma grazie grazie mille io passerei rapidamente a scorrere le domande che nel frattempo sono arrivate provo come dire a raggrupparle un po' per gruppi diciamo c'è un primo c'è un primo gruppo di domande che potremmo ricondurre alle difficoltà a volte anche come dire tecniche tecnologiche o anche soltanto come dire metodologiche che gli insegnanti che sono connessi incontrano a seguire questo tipo diciamo di didattica digitale integrata a distanza che sia provo a leggere allora un insegnante dice come interagire quando si deve tenere la telecamera spenta per la banda immagino che significhi quando non c'è banda bisogna tenere la telecamera spenta e soventi i ragazzi scrivono in chat perché non gli funzionava il microfono quindi credo che queste siano quelle domande appunto che afferiscono quella difficoltà di ambiente di contesto che tu prima richiamavi quindi come risolvere questi problemi proprio anche certo è chiaro che l'ideale è avere la videocamera accesa per poter vedere gli occhi dei ragazzi se hanno occhiaie se non hanno occhiaie come stanno è evidente che la videocamera accesa è uno strumento molto importante se la videocamera non è inglobata nel computer se i ragazzi non ce l'hanno se il problema di banda è spenta alcune delle applet che abbiamo visto insieme per esempio Answer Garden funzionano senza videocamera per cui si può fare una nuvola di parole si possono fare dei sondaggi senza avere la videocamera accesa cioè è un altro livello di interazione siamo tutti d'accordo è meglio quando ci sta la videocamera accesa piuttosto che quando è spenta questo va da sé però esistono modalità di interazione e coinvolgimento che prescindono dalla videocamera certo dunque un'altra domanda diciamo il tema è il seguente cioè le attività digitali permettono di mantenere gli studenti a distanza facendo loro sperimentare nuovi linguaggi ma quelli in presenza quali strumenti possiamo fornire loro per sperimentare questi linguaggi credo che la domanda si riferisca a quel contesto che tu prima hai spiegato cioè metà classe a distanza metà a casa come si riesce a coinvolgere come dire in attività digitali anche i ragazzi in classe io faccio fare da diversi anni questo discorso qui io chiedo ai ragazzi di imparare da loro modalità asincrona come si adopera per esempio powerpoint piuttosto che google slide gli faccio vedere in classe una presentazione powerpoint che si chiama come si fanno belle presentazioni powerpoint spiego quello che io voglio da loro loro imparano da soli perché sui computer sono bravi a imparare da soli e arrivano poi a scuola con la loro chiavetta oppure hanno messo nel cloud se sono un pochino più avanzati si collegano dal computer di scuola di classe oppure dal computer mio o anche dal loro cellulare e proiettano sulla lavagna elettronica o anche sulla parete bianca se non c'è la lavagna elettronica con il proiettore che si spera ci sia in classe il proiettore in genere c'è oh badate se non c'è il proiettore perché spesso nella scuola italiana non c'è neanche il proiettore anche se all'interno della carta del docente il videoproiettore non lo si può comprare perché a quanto pare al ministero pensano che noi videoproiettori ce li compriamo per il nostro piacere personale esistono dei videoproiettori grandi così cioè molto piccoli stanno in tasca che costano 200 euro che si mettono su un treppiedino e si crea un discreto una discreta proiezione su un muro bianco quindi anche qualora non ci fosse il videoproiettore in classe che dovrebbe essere il minimo indispensabile ce lo possiamo ricreare noi e il ragazzo si è studiato come si fa una presentazione powerpoint l'ha fatta a casa la porta in classe noi possiamo anche mettere il nostro voto basandoci su quanto bene l'ha fatta seguendo i nostri crismi per questo suggerisco sempre di dare una rubrica e spiegare esattamente in modo pignolo cosa devono mettere all'interno di questa presentazione e in questa maniera il ragazzo la ragazza sta imparando ad operare un software che poi ne ha tanti simili e sa fare una presentazione che l'anno prima non sapeva fare quindi è in classe ma può tornare utile sia dal vivo che a distanza bene grazie allora passiamo un'altra domanda c'è qualcuno che chiede probabilmente una maestra o un maestro che se questa metodologia che tu hai spiegato possa essere utilizzata anche nella scuola primaria e soprattutto con bambini molto piccoli di una prima classe se invece ritieni che sia troppo presto chiaramente qui diventa più difficile per la scuola primaria bisogna trovare delle applicazioni che sono molto colorate che siano molto colorate e che possano funzionare per i bambini piccoli io fra quelle che conosco ammetto di conoscerne pochissime per la scuola primaria perché lavoro in un triennio del liceo addirittura insegno dal terzo al quinto liceo bene Wordwall che al suo interno ha decine se non centinaia di sub applicazioni possono servire per chiamare un ragazzino far fare un lavoro di gruppo ci sono veramente tantissime possibilità quindi Wordwall è una delle tante ma sicuramente esistono siti che elencheranno in modo molto più puntuale di quanto io posso fare le applicazioni che sono adatte per la scuola primaria qui c'è un'altra bella domanda dice essere un insegnante alla materia pratica come educazione fisica o musica beh forse per musica è più semplice ma forse che cosa potremmo suggerire per musica per musica è più semplice perché esistono programmi che consentono addirittura di trasformare la tastiera del computer in una tastiera di organo piuttosto che in una specie di sintetizzatore musicale quindi effettivamente il computer ci può trasformare qualunque strumento con i tasti è più difficile naturalmente il discorso di educazione fisica posso pensare soltanto al fatto che ormai si trovano moltissimo su youtube le video lezioni di ginnastica noi che abbiamo una certa età ricorderemo Jane Fonda che faceva le prime lezioni in televisione ecco appunto in pratica è quello fare esercizi fisici essendo inquadrati e trasmettendo l'immagine dell'esercizio fisico che si sta facendo ai ragazzi e chiedendo loro di ripetere l'esercizio in un ambiente che deve essere comunque sicuro perché i ragazzi devono rendersi conto che la professoressa di educazione fisica si è messa un tappetino sotto non ha spigoli eccetera e la stessa sicurezza deve essere riprodotta eventualmente nella loro stanza da letto se sono a casa altra domanda relativa appunto ai comportamenti in questo caso se i ragazzi hanno difficoltà di connessione chiedono di tenere la videocamera spenta bene lì è un discorso di metodo cioè se c'è una difficoltà di connessione nel senso che la videocamera accesa non consente di seguire si può tenere spenta se c'è una timidezza si deve cercare di capire perché c'è una timidezza io avevo degli studenti l'anno scorso che si sentivano brutti non volevano farsi vedere perché si sentivano brutti li ho affrontati parlando uno a uno ho cercato di capire quale fosse il problema e quando l'ho capito con un minimo di io lo chiamerei buonsenso non astuzia gli ho spiegato che non era vero che fosse un ragazzo o una ragazza brutta e che più brutto di me non ci poteva essere nessuno per cui sostanzialmente ho cercato di dargli un minimo di normalità di serenità e però ci ho parlato e li ho ascoltati ecco una frase che secondo me funziona con gli adolescenti è se mi vuoi parlare perché hai un problema o anche perché non hai un problema io queste due qua le ho e funzionano poi magari non so cosa risponderti perché non sono uno psicologo non sono un esperto però sono un adulto quindi intanto ti ascolto e lo studente questa cosa qua l'avverte cioè non è che siamo tutti fatti così che chiediamo allo studente cosa c'è che non va ti ascolto e quindi anche se magari ci lascia interdetto quello che ci viene detto in qualche maniera già siamo entrati in empatia ascoltando poi starà a noi alla nostra maturità capire se possiamo lasciare la cosa a decantare così o se dobbiamo coinvolgere la famiglia oppure altre autorità perché chiaramente ci possono essere casi di diverso tipo aneddoto personale molto breve cinque anni fa ragazza piccola minorenne che mi viene a dire di essere rimasta incinta non mi sono messo io a dirle cosa doveva fare della sua vita l'ho indirizzata presso un consultorio che lei non sapeva l'esistenza del consultorio cioè delle persone esperte professionalmente adeguate a parlare a una studentessa di 14 anni sulla sua gravidanza inaspettata io so che esistono magari la studentessa no allora non devo sostituirmi io al consultorio devo dire a io la studentessa guarda vai qua e questo lo si può fare dal vivo e probabilmente anche a distanza scelte al fine una domanda la persona che scrive l'antito la provocazione da una professoressa o da una professoressa incerta la domanda è ma se io volessi trasmettere che la vita vera va oltre la caverna degli schermi immagino che qui si riferisse alla proiezione che tu hai fatto del videogioco e forse questo è un tema realtà virtuale versus realtà realtà vera insomma la professoressa ha pienamente ragione la vita vera va al di là della caverna ce lo ha dimostrato Platone con il suo mito la vita vera è quella di tutti i giorni qual è il problema? che ci possono essere circostanze in cui la vita vera di tutti i giorni è quella che si fa tramite un computer perché se c'è un terremoto una guerra o una pandemia o qualunque altra situazione di forza maggiore che non ci consente di fare quella che era la vita vera fino a ieri le cose sono due o chiudiamo baracca e burattini e diciamo per quest'anno non si fa scuola tutti bocciati o tutti promossi senza avere fatto nulla oppure ci ingegniamo allora l'anno scorso noi non abbiamo fatto didattica a distanza abbiamo fatto didattica emergenziale a distanza cioè ci siamo tutti improvvisati in 48 ore chi più chi meno chi più velocemente chi meno velocemente chi l'ha fatto sul serio e chi l'ha fatto per finta ci siamo improvvisati professori virtuali a distanza oh signori noi siamo circa un migliore di insegnanti abbiamo portato sulle nostre spalle 8 milioni e mezzo di giovani italiani a passare l'anno scolastico e io non penso che non abbiamo insegnato nulla tramite questa caverna degli spetti che abbiamo davanti in questo momento senti un'ultima un'ultima domanda che ha a che fare con il percorso professionale appunto parlavamo di docenti la domanda è quali tipi di percorsi professionalizzanti possono aiutare i docenti ad aggiornarsi su questi temi cioè se qualcuno avesse la voglia desiderio appunto di raggiungere un livello di formazione cosa potrebbe fare cosa dovrebbe fare oltre ovviamente questo scusate l'editore che parla acquistare il tuo libro adesso lo dirò io perché giustamente i miei colleghi penso che abbiano da preparare la cena e tutto quanto no no l'ultimo 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 allora ci sono moltissimi webinar questo è uno vi ha dato delle informazioni questo webinar non è che vi abbia formato come nuovi docenti digitali però vi ha dato delle informazioni adesso voi siete consapevoli che esistono questi programmi di cui abbiamo parlato poi esistono dei corsi alcuni sono gratuiti altri sono a pagamento quelli gratuiti tendono ad essere buoni come quelli a pagamento almeno nella mia esperienza sono fatti da tutte le aziende sia dal ministero dell'istruzione e bisogna vedere il portale del ministero dell'istruzione sono fatte dalle aziende come google come altre aziende di questo tipo bisogna semplicemente orientarsi su un motore di ricerca scrivere quello che si cerca e vedere quali sono le possibili offerte poi io vi dico finché siamo liberi di muoverci di persona questi corsi cercate di farli non virtuali cioè cercate di andare in una scuola e farli dal vivo vi daranno un terminale magari vi metterete lì però è più bello avere il contatto umano io l'ho sempre detto e continuo a ripeterlo la scuola vera è quella che si fa dal vivo poi nelle situazioni di emergenza noi dobbiamo industriarci per riuscire a fare scuola lo stesso nonostante quello che sta succedendo insomma grazie Schiltian direi che possiamo terminare questo intervento ti ringrazio tantissimo spero che le persone collegate abbiano avuto suggerimenti spunti per il proprio lavoro terminano con alcune comunicazioni di servizio il video di questo intervento resterà disponibile sul canale youtube di Mondo Core Education le slide che Schiltian vi ha proiettato saranno consultabili dopo circa una settimana nell'archivio dei webinar e l'attestato come vi ho detto sarà disponibile sul mondoporeducation.it slash attestati entro una settimana diciamo a partire da oggi con ciò vi ringrazio e vi do appuntamento il 26 ottobre con un webinar tenuto dal professor Piero Gallo che si occuperà della progettazione didattica in un contesto difficile come quello che stiamo vivendo queste settimane caro abbraccio tutto a presto ciao ciao grazie Schiltian grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti